Il trionfo dei fiori di Zafferano tra degustazioni, dibattiti e iniziative culturali nella stagione della raccolta. La festa dell'Oro Rosso entra nel vivo domani, domenica 25 ottobre, a San Pio delle Camere con raccogli, conosci e degusta. La kermesse inserita nell'ambito dell'iniziativa Le Vie dello Zafferano, organizzata per vivere l'esperienza della raccolta del preziosissimo fiore. La manifestazione, patrocinata dalla provincia, è riuscita a riunire per la prima volta tutti i produttori dello Zafferano dell'Altopiano di Navelli, molti anche ristoranti e le cantine che hanno aderito per offrire un vero e proprio percorso di gusto e di conoscenza di questa eccellenza aquilana. Il testimonia alla deccezione è lo chef Stella Michelin, William Zonfa. La domenica inizia dunque sul campo, i coltivatori accoglieranno chi vorrà scoprire il rituale antico della raccolta, della sfioritura e dell'essiccamento dello zafferano. Per le vie del centro storico del borgo di San Pio, gli ospiti, oltre a conoscere profumi e sapori, avranno anche la possibilità di partecipare a seminari, show cooking, con chef stellati e in odor di stella, e laboratori del gusto, in collaborazione con Slow Food, Abruzzo e Molise e l'Università dell'Aquila. Gli show cooking in Piazza del Redentore, con posti limitati e su prenotazione, sono cinque. Uno a cura di Rocco De Santis, chef del ristorante Il Vista Mare, del Fogliano Hotel di Latina. Ida Di Biaggio, maestro della Gelateria 900 di Pescara. E ancora Francesco Dioletta, maestro del bar Gelateria Duomo dell'Aquila. Marcello Spadone, chef del ristorante La Bandiera, una stella Michelin, Civitella Casanova. E William Zonfa, ambasciatore nel mondo dello zafferano dell'Aquila, chef del ristorante Gourmet di Magione Papale e una stella Michelin. Nella chiesa di San Pietro Celestino, in Piazza del Redentore, è previsto anche il concerto di chiusura dell'evento.